Il Consiglio regionale ha approvato due emendamenti frutto dell'ascolto sul territorio proposti dal consigliere Carlo Grilli, lista Fedriga, illustrati stamani nel corso di una conferenza stampa. Si parte dalla legge di stabilità per il 2024 che prevede una serie di risorse per le strutture che operano nella formazione delle persone con disabilità e quindi nell'inserimento delle stesse nel mondo del lavoro. Un processo culturale che deve andare avanti e deve proseguire. Il concetto del lavoro per ogni persona è un elemento essenziale della propria vita. Per una persona con disabilità mette in campo ed assume dei ruoli completamente diversi perché dà il concetto di sé, dà il concetto di sé come persona, persona fra persone e persona utile a se stesso, alla realtà imprenditoriale che rappresenta e alla comunità. Sicuramente la mentalità sta cambiando e questo è fondamentale. Come è fondamentale continuare a mantenere vivi la possibilità di progettare in modo sempre innovativo e anche assolutamente attinente, poi contingente alla realtà del tempo che stiamo vivendo. Nello specifico il primo emendamento sosterrà i lavori di adeguamento dell'impianto di riscaldamento della cooperativa sociale Trieste Integrazione Anfas. Il secondo prevede un contributo pari a 100.000 euro per l'acquisto di attrezzature, strumenti informatici e mezzi di trasporto per le cooperative sociali dedicate all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. All'incontro svoltosi nella sala azzurra del Consiglio regionale hanno preso parte anche il vicepresidente della consulta regionale di disabili Maurizio Pessato, il presidente provinciale Marco Tortul e i vertici della cooperativa sociale Trieste Integrazione.